Il filo Per controllare i bresci, il colore, il pH, la consistenza, il bow streak, il blotto, i parametri che bisogna per controllare se è in specifico Siamo un centro di distribuzione e facciamo il mantenimento dell'equipamento che dischargono in diverse palle Abbiamo 6 palle, 2 per la pasta, 2 per la puree e 2 per le dice Sistema di alta pressione, ora durante la season, questo è il cover Selezionato come un bresci E qui abbiamo un altro, per riportare in un sistema il rosso Perché quando selezioniamo, ci sono anche alcuni tomatoli rosso Un sistema di pulito, abbiamo questo rullo che prendono la pulita Se si prendono il rosso, o il rosso, o il rosso, o qualcosa che potrebbe essere una malattia Potremmo andare alla linea, alla bottola o all'aseptic Per il tomatolo finito, quello che chiamiamo di polpa fine Che è preparato per la pizza Per avere un prodotto speciale, fresco Per avere la fresnessa dei tomatoli Per mettere su la pizza Ma con una consistenza che non rilassa l'acqua Quindi abbiamo la migliore soluzione Per combattere la fresnessa dei tomatoli Che è diverso da la salsa di pizza Perché la salsa di pizza è concentrata E non ha un gusto cucchiato Perché è troppo alto in bresci Qui abbiamo la fresnessa Quindi abbiamo circa 7 bresci Ma con una consistenza che è fatta da una macchina speciale Che dà una consistenza a questa pulpa Che non rilassa l'acqua E quindi abbiamo la possibilità di non rilassare la pasta Nell'ovole È l'Italia dell'art del comando Abbiamo una cooperazione tra la flore e le tomatoli Per promuovere la filosofia dell'Italia E' uno dei principali mercati Che vogliamo approcciare Allora è l'U.S. Solo 5% di quello che stai comprando In U.S. in questo momento Under un brand italiano Sono realizzato in Italia Questo 5% di produzione Che è reale italiana Che viene dall'America In questo caso Molto di queste nomi Ci sono alcuni e non organizzati Ci sono alcuni Ci sono alcuni Ci sono alcuni Ci sono alcuni La pizza americana È una pizza Ma completamente diversa Da l'Italia Ci sono aspettato Non rilassimo E proponiamo In una strada La freddita E la pizza italiana Penso che